Quello di gennaio è un mercato in cui è difficile lavorare. I giocatori che uno vorrebbe per migliorare una squadra come il Manchester City, che è un top team, già si trovano in un altro top team e ci sono anche altre squadre che li inseguono. Al gennaio dunque è difficile comprare e non sarei sorpreso se alla fine non prendiamo nessuno. Sette punti sono un bel distacco, non c'è dubbio, ma con metà della stagione ancora da giocare non è poi un distacco così insormontabile. E poi non stiamo giocando male, contro il Sunderland abbiamo dominato la partita e quasi sempre primeggiamo nel processo palla e nelle altre statistiche. A parte il gol che abbiamo preso, siamo stati battuti in una partita che nove volte su dieci avremmo vinto. Come out and you'd win it. I think if we played it nine times out of ten, we would do. We haven't done.